Somayet Mahmoudi, professionista nell'ambito del sociale con studi conseguiti presso l'Università di Teheran in Iran, oggi è una rifugiata in Italia. È stata lei la protagonista dell'incontro, tenuto a Lanciano nella casa di conversazione su iniziativa dell'Associazione Daphne del Comune. Somayet è stata costretta a fuggire dalla sua terra, l'Afghanistan, dove si occupava del contrasto del fenomeno della violenza e di empowerment dei diritti delle donne. In sala la proiezione del documentario che racconta la sua storia, realizzato da Alessandro Di Gregorio, vincitore del David di Donatello. Non solo io, tutte le donne sentono coraggiosi perché vogliamo combattere contro violenza, contro problemi che ci sono nella società e vogliamo crescere. Ha cominciato a rivivere, a ricominciare una vita nuova, a lei si sente di essere coraggiosa. Io spero per tutte le donne, anche per me stessa, che dobbiamo combattere contro violenza e non deve essere più questa violenza. Anche noi abbiamo creato una società per le donne afghane, donne emigrate che vengono da altri paesi, che subiscono violenza dal loro paese. Noi abbiamo creato questa società per aiutare per loro, sia nel loro paese, sia qua in Italia. Gli appuntamenti termineranno domenica pomeriggio alle 18 con l'Associazione Donnè, in collaborazione con il Rotary Club Lanciano. Di scena al Polo Museale Santo Spirito, la performance teatrale, e i panni sporchi stendili fuori, da un'idea di Marina di Virgilio, filosofa e pedagogista della marginalità e disabilità, con una formazione specifica in teatro educazione e educazione di genere. L'intento dell'opera è soprattutto quello di contrastare le stereotipi annidate nella cultura di appartenenza e proporre un'idea nuova del femminile, che vada oltre l'attribuzione dei tradizionali ruoli di genere. Grazie a tutti.